Salve a tutti. Ciao, ciao fratello. Sono Riccardo, in arte mi chiamo DJ Poeta Gribbiz. Cioè? DJ Poeta Gribbiz. Come lavoro faccio il giardiniere e a destro cani. E così dalla passione dei cani. Praticamente ho registrato l'abbaio e l'ululato dei miei cani e li ho inserito dentro le tracce in versione dance canina. Fai ballare i cani. Sì, uomo. Esatto. Ma ballano solo i tuoi cani o se sentono altri cani, il mio, il suo, ballano? Penso di sì. E spero che balli anche il pubblico. Perché lui mette la musica e con i cani magari i cani ballano. Anche nel senso che io adestro cani e sono insegnante di danza per cani. Ah, ho capito, ho capito. Da lì l'idea... In questo caso i cani non devono ballare. No, in questo caso ballano tutti. Ok. E ballano anche i cani. Allora, facciamo un esempio. Se balla Zerby è come se... Io vado a lezione da lui, ho capito? Ecco. Importante che tu a questo punto a destra i cani, fai ballare i cani, campioni i cani, importante che tu non sia un DJ cane. Questa è l'unica cosa. E quindi dimostra il tuo talento. Su le maniche! Don't sit down Monday! Talk in fact! If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash. And live a good time. I'm talking about a good time. Ciao! 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 C'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho. Solemaniche! Libero, tentane, che in noi! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Iate fuori, lascia la politana! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! È fatta, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta. Stop! A furor di popolo nella mia scuderia! Chihuahua. Quanti avete in voi? Tirate fuori il maschino napoletano che è in vostra suocera. Finalmente il vostro lato canino prevarrà su tutto e sarà grazie a quest'uomo. Non lo do per uno, non lo do per due, non lo do per tre. Per 5.000 euro viene a casa vostra. Quattro. Tre. Per 600 euro. Siete carini, sembrati il Lilli e il Vagabondo. Carini, ma belli, bellissimi. Non fare battute inutili. Adesso vedrai che il voto è a posto perché ho parlato io. Allora, come ti chiami? Riccardo. 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 Io ti devo dire, a me è piaciuto. Per me vale. No, ma davvero, lo dico davvero. Ti ho ridato il tempo perché lo trovo divertente, lo metteva allegria. Sì, era lo scopo. Lo scopo era far sorridere le persone oltre che farle ballare. E tu non sai che effetto fa sulle donne, eh? Eh? T'ho visto quando hai sottile. Adesso vediamo il pubblico. Sì. È un cento. È un cento. È una votazione inutile. Però io sono assolutamente favorevole. Va bene. 62 sì. 62 sì. Ti vedremo. Ti vedremo. Sì.